Ciao e bentornati su Unnecessary Pixels, il canale che vi fa scoprire un gioco nuovo ogni giorno. Io sono Paolo e oggi parliamo di Iron Crypticle. Iron Crypticle è un figlio spirituale e anche un po' pratico di Iron Fisticle, un gioco che non ho trattato sul canale, che neanche posso trattarli tutti. È un Twin Stick Shooter Arcade nel quale in coop locale o da soli, fino a quattro giocatori in coop locale, entreremo all'interno di delle stanze piene di monstri che verranno generati, dovremo ucciderli tutti entro un certo limite di tempo e uscire dalla stanza. Fino a rinpercorrere una serie di stanze, fa di una mappa che contiene anche dei bivi, arrivare al boss finale del mondo e andare avanti al gruppo di livelli successivo. Tutto questo per salvare il tesoro del re che è stato rubato da chissà chissà che cosa, noi ci gettiamo avventurosamente all'inseguimento del tesoro del re. Per farlo avremo a disposizione uno sparo standard, la possibilità di raccogliere dei power up temporane all'interno dei livelli e la possibilità di alzare le nostre caratteristiche raccogliendo degli altri power up o comprandoli ad un negozio. I power up sarà più facile che droppino se riusciremo a fare delle combo di bonus. Come si fanno le combo di bonus? Raccogliendo il cibo che viene lasciato dai mostri quando li ammazziamo, da alcuni mostri non da tutti, prima che scada il meter della combo. dovremo arrivare fino a perotto, cercare di tenere sempre il perotto in maniera che aumenti il drop rate dei bonus permanenti dei nostri personaggi, altrimenti tutti i bonus saranno temporanei. Allora, cosa funziona? Funziona il gameplay che è solido, non è eccezionale, non si inventa niente di nuovo, non fa niente che non sia mai stato visto nei videogiochi prima, però funziona bene, è divertente, fa quello che deve fare, il personaggio risponde, quando deve sparare spara, non mi posso lamentare del gameplay, così come non posso assolutamente lamentarmi, anzi della varietà dei nemici, che ogni due livelli cambiano, aumentano, si modificano, succedono delle cose nelle mappe che hanno delle insidie, delle trappole all'interno, quindi gli avversari che andremo ad affrontare sono abbastanza vari da tenerci interessati a quello che succede a schermo. Funziona il sistema della combo a tempo delle cose da mangiare, del cibo, perché aggiunge un problema in più all'interno di un gameplay che altrimenti sarebbe molto piatto, e cioè vado a recuperare quel cibo sperando di riuscire a ammazzare tutti i nemici in tempo per mantenere la combo e potenziarmi, o vado sul sicuro e mi allontano dalla zona con tutti i nemici e i bonus e sto un po' più lontano e li faccio fuori con un momento più di calma, è una scelta interessante da fare durante il gioco, ci piace. Interessante e molto carina la mappa Bibi perché ci permette in alcune situazioni di scegliere se vogliamo affrontare un boss, un mini boss oppure no, di scegliere se vogliamo affrontare di andare in un negozio oppure affrontare un altro livello in cui livellare perché abbiamo bisogno di guadagnare più soldi per livellare. Questa cosa qui funziona e è piacevole poter scegliere alla fine di ogni stanza nel caso in cui sia previsto dalla mappa da che parte andare. I problemi di Iron Cryptical sono uno che è buio, è molto molto buio, a volte finiremo in delle trappole soltanto perché non le abbiamo viste perché tutto è molto scuro. Avrei preferito un 20% di luminosità in più agli ambienti in maniera da in qualche modo vedere cosa stavo facendo perché a volte capita piuttosto spesso di non vedere che c'è un muro e quindi non riuscire a scappare da un proiettile che ci sta arrivando contro per esempio. Non mi piacciono i power up temporanei, non mi piace il fatto di cambiare arma per un certo periodo di tempo e poi tornare all'arma base perché non mi piace? Perché il fire rate delle armi che raccogliamo è molto diverso da quello dell'arma base che non è un'arma che fa pochi danni ma un fire rate molto basso quindi succederà molto spesso di raccogliere un'arma diventare aggressivi perché ce lo possiamo in quel momento permettere perché possiamo far fuori più nemici in un tempo breve veder sparire l'arma trovarci con lo sparo con la cadenza di fuoco molto lenta e quindi venire soverchiati nei nemici che non riusciamo più ad arginare e quindi prendere un danno. Questo devo dire che è un po' frustrante non mi ha fatto impazzire altra cosa che mi ha fatto impazzire è che purtroppo nel sistema di bivi della run puoi non beccare un negozio per tutta la run e quindi trovarti di fronte al boss finale del gruppo di livelli esattamente potente come quando sei entrato dentro il gruppo di livelli questo è un peccato è un vero peccato che sia così perché affrontare un boss con la stessa configurazione gli stessi poteri le stesse caratteristiche di quando sei entrato nel livello è un po' deludente è vero che si può fare io l'ho fatto al secondo try un boss è andato giù anche se ero esattamente come ero nato però uno spera questi giochi gode del potenziarsi e questo Iron Crypticall non sempre ce lo permette è un twin stick shooter che funziona non è che posso raccontarvi molto di più ha il vantaggio di avere il co-op locale e quindi se avete degli amici con cui giocarlo essendo che le mappe sono limitate alla schermata e quindi non c'è problema di split screen non mi inquadro non faccio quelle robe lì devo dire che se potete giocare con gli amici su un divano è divertente è buono per una serata rilassante per il resto è un è un twin stick shooter che non eccelle ma porta a casa il risultato di neanche di mediocrità di decenza mediocrità è peggio una cosa mediocre una cosa che decenza va bene non mi sento truffato nell'avere investito dei soldi o del tempo in questo Iron Cryptical costa 9 euro su stime è stato sviluppato dai confused pelican dal pelicano confuso va bene sviluppatori grazie ci vediamo al prossimo video ciao ciao